Giglio Group, il primo e unico gruppo televisivo italiano in esclusiva in Cina. Giglio Group opera da più di dieci anni nel mercato televisivo italiano con i marchi Music Box, Yacht & Sail, Playme, Aqua e il network globale Nautical Channel, il canale leader al mondo nel settore nautico. Oggi, dopo i successi riscossi in più di 50 paesi nel mondo, Giglio Group ha scelto per gli investitori italiani il mercato pubblicitario cinese. Con oltre un miliardo, 300 milioni di persone, il paese continente ha in breve tempo triplicato la sua copertura web mobile, aprendo il suo mercato ai migliori operatori esteri del settore entertainment. Giglio Group è l'esclusivista italiano nel settore TV ed è presente in Cina con CIBN, China International Broadcasting Network, la piattaforma televisiva che trasmette via satellite, IPTV, Smart TV e su dispositivi mobile contenuti editoriali esclusivi. Giglio Group è on-air, in esclusiva su CIBN, con tre canali televisivi tematici visibili da oltre 250 milioni di utenti, grazie ad oltre 150 milioni di decoder attivi. music, lifestyle and fashion, travel and living, food, art and design, luxury, sports, motors, boats and adventures. Giglio TV, in esclusiva per l'Italia, porta nelle case della popolazione cinese il meglio dei suoi prodotti e dei partner commerciali ed editoriali che lo affiancano in questo progetto. L'offerta televisiva Giglio TV comprende la grande fiction italiana con le storie d'amore più coinvolgenti, le vicende, l'avventura, l'investigazione e le sope più amate. La passione tricolore per l'intrattenimento oggi è in Cina. Le produzioni relative al food, lifestyle, travel and adventure, con ricette per cucinare i piatti della tradizione, i documentari su città e storia, oltre agli speciali sulle ultime tendenze. I contenuti esclusivi sull'universo moda con le ultime novità del fashion, i speciali monografici e i backstage delle passeree. L'opera italiana, la grande musica classica messa in scena al teatro alla Scala di Milano. Oltre a questa imponente offerta pay, da oggi Giglio Group è presente, unico editore TV italiano, sul territorio cinese, grazie all'accordo con CCTV, la TV di Stato cinese. Il gruppo con il maggior numero di utenti e con il più ampio market share. CCTV trasmette a livello nazionale 15 canali free e un numero sempre in crescita di canali pay. L'accordo tra CCTV e Giglio Group consiste nella coproduzione di un magazine settimanale interamente dedicato all'Italia. Trenta minuti a settimana di mare, montagna, città d'arte, eventi, moda, bellezza, enogastronomia, motori, design. Il magazine, dal titolo Made in Italy, è la più importante finestra italiana in Cina, prodotto settimanalmente e al passo con tutte le novità ed anteprime del bel paese. Made in Italy, in onda in prima serata su CCTV, è seguita da oltre 100 milioni di telespettatori nel minuto medio. I contenuti, realizzati in Italia, sono presentati in studio da Wang Jie, volto noto delle TV del circuito CCTV. Il meglio dei motori, con le anteprime e della storia della cultura millenaria dello stivale, sono finalmente spiegati e raccontati come mai fino ad ora ad un pubblico e al mercato cinese. Ma non è finita. Giglio Group ha siglato importanti accordi anche con gli altri player del panorama cinese. V-Cinema, l'operatore Pei con una forte concentrazione nel nord del paese e nella capitale, che opera via cavo, web, IPTV e mobile, trasmette in esclusiva il meglio di Giglio TV. Yuku Tudu, la internet television leader in Cina, che permette di cercare e visionare online da qualsiasi device milioni di video e programmi. Yuku Tudu conta ogni settimana oltre un miliardo e duecento milioni di pagine viste. In collaborazione con Giglio Group è stato aperto il canale web Italy One, emanazione web di Giglio TV, con il meglio della produzione di lifestyle, fashion, food, film e serie TV. I-Ci-Yi, la prima piattaforma di video online in Cina, una realtà leader nel settore delle TV online. Controllata da Baidu, il più grande motore di ricerca cinese, I-Ci-Yi e Giglio TV hanno lanciato il nuovo canale Italian People. Yuku Tudu e I-Ci-Yi, insieme, raccolgono oltre il 70% degli utenti di video su web. Inoltre, Giglio TV è la prima ed unica società occidentale nel settore media ad aver siglato una partnership con il Partito dei Giovani Comunisti Cinesi. Questo accordo, unico nel suo genere, di grande valenza istituzionale, consentirà ai canali di Giglio TV di essere visibili anche sui mobile di tutte le compagnie telefoniche cinesi. China Mobile, China Unicom e China Telecom. Il numero di mobile video user nel luglio 2014 in Cina è stato di 270 milioni di persone. Web, TV Free, TV Pay, TV Sat, IP TV, Smart TV, TV via cavo, Mobile TV. In Cina, l'Italia, in esclusiva, solo su Giglio TV. L'Italia, in Cina. L'Italia, in Cina. L'Italia, in Cina. Grazie a tutti.